Floreano Barone, ultima settimana utile per i cittadini per il ritiro dei kit, delle buste per la raccolta differenziata. Come è andata? Sì, ci apprestiamo alla chiusura di questo ciclo di distribuzione. La settimana prossima sarà praticamente l'ultima. Ricordatevi che martedì è festivo quindi non ci sarà distribuzione. Quindi da lunedì a venerdì prossimo ancora l'ultima settimana e poi ci dovremmo rivedere a gennaio. Devo fare complimenti ai ragazzi e ai nostri volontari che sono stati fantastici nel gestire anche un attimino le intemperanze degli utenti. Il nostro appello iniziale devo dire che non è servito perché invece dei 4.500 che distribuiamo nella prima settimana ne abbiamo distribuiti 6.000. Veramente avevamo giornate in cui c'erano migliaia di utenti ad aspettare. Però abbiamo fatto un piccolo passettino avanti perché siamo riusciti a mettere in fila i torresi anche alla salle. Quindi evitare un assembramento davanti al casotto che creava fastidio e anche impediva ai nostri volontari di lavorare. Ricordiamo gli orari per il ritiro? Ancora una volta dal lunedì al venerdì, giorni di dispari alla salle, giorni pari ai mulini, dalle 9 alle 14.30. La prossima distribuzione sarà come previsto dal protocollo, dovrebbe essere a gennaio salvo sempre i soliti disguidi tecnici che potrebbero darci qualche settimana di traslazione sulla distribuzione. Ricordiamo che questi kit sono trimestrali? Esattamente, la fornitura riguarda tutto il trimestre. Sono state conteggiate le buste e la fornitura dovrebbe bastare per tre mesi. Quindi utilizzando correttamente le buste si riesce ad arrivare poi alla prossima distribuzione? Sì, ovviamente ci sono famiglie molto più numerose che fanno un uso molto più sconveniente del kit, però alla fine mediamente viene conteggiato che una persona di tre o quattro elementi dovrebbe raggiungere il trimestre. In cantiere è anche un'altra iniziativa sempre in merito alla distribuzione dei kit, questa volta a favore dei disabili? Sì, in realtà abbiamo due progetti in cantiere che vogliamo sottoporre all'attenzione dell'amministrazione comunale. Uno dovrebbe coinvolgere le scuole, un altro dovrebbe agevolare il ritiro dei disabili perché effettivamente non si possono vedere in fila ad aspettare. Noi li facciamo passare avanti quando li vediamo, ma già il fatto che debbano regarsi ai punti è veramente doloroso.